Ho ascoltato e riascoltato con molta attenzione le parole dette ieri dal sindaco Serfilippi in replica ad una conferenza stampa tenuta dai consiglieri delle opposizioni per la Regione Marche in merito alla realizzazione del nuovo hospice presso l'ex ospedaletto di Fano. Ovviamente sono favorevolissimo al nuovo hospice e mi auguro che si possa fare in tempi molto rapidi. Però la mia replica è dovuta al fatto sulle inesattezze che sono state dette dal sindaco Serfilippi in maniera anche malevola perché dal punto di vista urbanistica quell'area è stata inserita come area residenziale dal PRG sviluppato nel 2009 dalla giunta a Guzzi di cui lui faceva parte per cui l'ospice è stato trasformato in un grande condominio da quel piano regolatore. Nel piano regolatore invece adottato alla giunta di centro-sinistra e in particolare nel dicembre 2023, piano regolatore che ho seguito con molta attenzione, quell'area è stata destinata a strutture collettive in ambito sanitario. Quindi abbiamo dato seguito alla volontà espressa da tutti di voler fare in quell'area un hospice pediatrico e altre strutture riservate alla salute. Non come detto ieri sera dal sindaco Serfilippi, quindi noi nel nuovo piano regolatore abbiamo inserito quell'area come destinata per fare l'ospice. Inoltre vorrei sottolineare che in questi anni in cui ho avuto l'onore di essere assessore all'urbanistica mai nessun funzionario o dirigente della regione Marche è venuto a prendere informazioni sulla destinazione urbanistica dell'area, sulla realizzazione di quel progetto. Si è visto solo un funzionario nel maggio 2024 in piena campagna elettorale e ovviamente quella visita, secondo noi, è stata fatta solo a scopi elettorali. Nulla in questi anni è stato fatto dalla regione Marche affinché lì iniziasse la progettazione del nuovo hospice pediatrico. E infine sottolineo che in politica gli errori se ne fanno tanti, ma le bugie non si devono dire.